Il passaggio dei Templari in Valle Peligna è fatto certo, a rivelarlo sono degli studi approfonditi che determinano il loro passaggio non come commenda ma come ispettore dei castelli del contado aquilano. La notizia è stata ufficializzata durante un convegno organizzato a Pratola da Flavio Mariani, imprenditore territoriale ma residente in Francia. Ho sempre amato la storia in generale, in sé per sé, però quello che non mi è andato giù è la storia che ci hanno raccontato di Pratola Peligna. Io non ci ho mai creduto, ho sempre avuto dei dubbi, dei forti dubbi che ho sempre nutrito e questo mi ha condotto ad ipotizzare la presenza templare di Pratola e che Pratola avesse anche un ruolo importante, quello che poteva essere in questo particolar modo del Medioevo. Quello che praticamente abbiamo ricreato oggi è aver ricercato questi due grandissimi relatori che hanno finalmente svelato qual è la storia vera di Pratola Peligna, la storia del territorio Peligno e anche dell'Abruzzo e di questo gliene sarò eternamente grato. Uno studio importante che mette in risalto quanto il territorio Peligno e l'intero Abruzzo siano stati importanti dopo la prima crociata del 1096. Mi sono talmente affezionato allo studio dei Templari che in concomitanza con degli vari incontri che ho avuto con i miei colleghi di varie università europee e anche internazionali ho dato a tutti l'incarico di farmi delle ricerche sulla zona della provincia dell'Aquila e comunque dell'Abruzzo in generale per quanto riguarda la frequentazione templare. Ci sono venute fuori delle cose abbastanza interessanti anche grazie agli studi già fatti precedentemente. È stata così ricostruita la storia medievale di Pratola Peligna che oggi rileva in maniera chiara e precisa quanto il piccolo centro Peligno sia stato importante nei ruoli europei. L'ordine templare si dedicò nel corso del tempo anche ad attività agricole creando un grande sistema produttivo ed attività finanziarie gestendo i beni dei pellegrini e arrivando a costruire il più avanzato e capillare sistema bancario dell'epoca. Forse adesso si comincia a capire qualcosa in più sulla vocazione dei pratolani. Dopo approfonditi studi condotti dai catastri onciari e dai volumi della diocesi di Monsignor Ceridogno, dal catalogo dei baroni, dagli archivi della cancelleria Angioina Napoli e dagli archivi aquilani, abbiamo appunto ricostruito anche dalla casa elettrice Penne Papiri che si occupa di Templari Medioevo e Cavaliere di Malta la storia medievale di Pratola portando alla luce dei documenti importanti che rivelano il passaggio dei Cavalieri Templari nella Valle Peligna, non come commenda ma come ispettori dei castelli nel tutto il contatto aquilano.